Innanzitutto un grande risultato per il Consiglio regionale tutto, abbiamo presentato questa legge qualche tempo fa, l'attenzione di tutti i gruppi politici della nostra regione e l'altro giorno c'è stata l'approvazione unanime, io penso che un atto di civiltà importante, cioè offrire la possibilità di avere il medico di base anche per chi non ha la residenza. Parliamo a livello italiano di 60.000 italiani che non hanno la possibilità di avere il medico di famiglia poiché non hanno la residenza e quindi sono senza fissa dimora. Un atto di civiltà è stato approvato l'altro giorno in Consiglio regionale, altre regioni lo hanno già fatto tempo fa, parlo dell'Emilia Romagna e della Puglia, altre regioni stanno valutando l'approvazione di questa norma che consente di dare un'opportunità e una tutela sanitaria come prevede la Costituzione ai senza fissa dimora ma anche un risparmio al sistema sanitario regionale poiché sappiamo tutti che una prestazione in pronto soccorso costa dai 200 ai 400 euro mentre avere il proprio medico di famiglia ha un costo tra i 60 e gli 80 euro quindi una riduzione dei costi e un aumento dei servizi e anche delle tutele sanitarie a chi purtroppo è senza residenza e senza fissa dimora. Grazie. Grazie. Grazie.